Assessore Serraiocco, Pescara potrà finalmente avere un ospedale per animali? Sì, abbiamo avuto la capabilità di presentare un progetto, questa amministrazione, abbiamo vinto insieme a dei partner importantissimi che sono l'Istituto Superiore, il Dipartimento dell'Università di Padova della Sanità, il Comune di Venezia, quindi una rete importantissima dove il Comune è stato rispettato, è stato protagonista e noi abbiamo vinto. Abbiamo vinto questo bando insieme a loro, la nostra attività è quella della costruzione dell'ospedale per gli animali del mare. Dove l'avete pensato di localizzare? È una novità perché questa amministrazione unisce la possibilità, dopo aver avuto questa possibilità abbiamo il piacere, l'orgoglio di questa amministrazione, ma anche mio personale, soprattutto come persona, di poterlo allestire all'interno del primo livello del Museo del Mare, quindi avremo il primo ospedale tecnologicamente più avanzato dell'Adriatico, il primo dell'Adriatico non c'è nessun altro sottoriccione che comunque tecnologicamente meno avanzato sarà di quello nostro, lo metteremo nel primo livello del Museo del Mare e sarà un fiore all'occhiello di questa amministrazione, di questa città. Utilizzeremo, metteremo quasi 16 vasche per gli animali del mare, le prenderemo tutta la costa Adriatica, non solo perché ci sono partner anche della Croazia, quindi sarà utilizzato anche da paesi non soltanto costieri, quindi non soltanto quelli italiani, ci saranno quasi 4 medici volontari, 24 ore su 24, abbiamo disponibilità per circa 90.000 euro per l'acquisto di macchinari, una sala operatoria, una sala per la riabilitazione, una vasca grande per la riabilitazione, è un grande fiore all'occhiello, un grande intuito di questa amministrazione di partecipare e avere la possibilità di avere disponibilità per poter fare questo ospedale del mare. Sarà già quando ci sarà il taglio del nastro? Io spero la disponibilità, adesso facciamo tutto ciò che è necessario per le procedure amministrative, iniziamo subito il progetto, già ieri abbiamo fatto una prima riunione, la seconda sarà di pari passo perché abbiamo la necessità di rendere operativo il primo livello del Museo del Mare, quindi sarà una struttura nostra tecnica urbanistica che svolgerà questa attività e l'altra invece per l'allestimento di questo museo, noi abbiamo, ripeto, quasi 80-90.000 euro di macchinari che potremmo già iniziare subito con gli avvisi.